Ma perché, dicevamo, dobbiamo sempre fare dei viaggi alla speranza? Cioè, questo viaggio in cui siamo per terra, nell'ultima carrozza dell'Eurostar... E neanche da quella del destino... No, l'abbiamo anche pagato 300 erotti sterline! Paccatroia! Perché per ragioni che adesso non andremo a... Oggi dobbiamo tornare a Parigi, adesso prendiamo questo fatto così com'è senza voler sempre cercare dei perché per come. È così. Eh, proviamo un pranzo di... Abbiamo un pranzo di lavoro! Siamo là così! Carri! Tutti! Solo che in tutto questo non abbiamo dormito quasi! Io ho fatto dei sogni so disturbing che non riesco bene a ricordare... Io ho un'immagine precisa e ti dirò di più! Ho anche il taglio della camera con cui vedevo questa immagine precisa del mio sogno! Ok, eh, rock star! Era come il muse dietro casa, però non era esattamente il nostro muse! E... Io ero andata a dare da mangiare al cane che avevamo e che ci avevamo scordate di avere e lui mi aveva intercettato perché bisognava discutere di questa cosa che nessun altro doveva sapere! E quindi era tutto parlare, però guardandosi intorno così, ma non mi ricordo qual è il punto, cioè non mi ricordo... Non mi ricordo più cos'è che ha combinato! Non mi ricordo più cos'è, ma non mi ricordo più cos'è, ma nessuno lo deve sapere! Quindi non lo so... Ben fatto, Jeff! Bravo, Jeff! No, ma bravo! Ma Jeff secondo me è stato, non so, promosso o declassato a questo per una scelta e la da Rapunzel adesso, che rende molto di più secondo me! Ma a me non piace la Rapunzel! No? No! Eh... Preferivo tutti i suoi soprannomi di prima! Jeff, Principe dei Coglioni... Principe dei Coglioni è un trono! No, è un trono un po' vacante, cioè un po' di qua, un po' di là! Ah, lei, io sono stanca, cioè voglio dormire, voglio dormire! Guarda che io praticamente dormito perché non sei arrivata, quindi secondo me si può fare! Ma dopo dobbiamo guidare? Ah, già, perché in tutto questo, dopo il pranzo di lavoro, noi dobbiamo fare 572.8 chilometri per arrivare a Francoforte! Però, se no, è vero, c'è questo! Non pensi, non pensi! Try a cazzosine! Qui? Io sono fatta! Poi c'è la testolina a questo! E ti lascia andare! Ti lascia cullare da Morfeo! Ti lascia andare! Ma scherzi, Morfeo! Ovvio, vecchi amici! Vabbè! Allora notte! Se vogliamo proprio essere onesti, si è dormito in condizioni di futuro! Secondo me! Svegli! Svegli! Ehm... Dio, il wellness veramente! Il tempio dell'io! Che cos'è questo? Ah, non pulisci cose! Mi pulisco le ostare! Pulisci le cose! Pulisci le cose! Pulisci le cose! Ah, qua ti tieni forte! Tieni di forte! Il pattern del pavimento mi piace da morire! Sembrano una cosa di Tim Burton a me! Sarà delirante su uno schermo! L'abbiamo richiamato? No! L'abbiamo richiamato! Beh, è vuoto! Ok! Andiamo all'open sky! Capiii! Come va? Per il resto? Cioè, oddio, potrebbe andare meglio secondo me! Ma dai! Uuuuh! Nauti thoughts! Ok, ciao! Oddio! C'è un sound che è chiuso! Cioè, c'è il vetro qua! Uffi! Poi c'è l'odore di sauna però! Che mi piace l'odore di sauna! No, però qua è un altro labirinto di Zimmer! Avete una stonza per me? Uff! Che polle! Brutta la vita! Che sfiga! Uff! Uff! Aia! Già che è a casa! Ci torniamo domani noi, dai! Ti ho scontato il vetro! Sì! 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 Stai parlando di Marie! Ma figurati! Ma che... Marie! Stai parlando di Marie! Marie, vedi che parli un inglese di merda! Marie, guarda che parli un inglese di merda, eh! Non si capisce mai che cazzo vuoi dire! Sì! Sì! L'album dei ricordi di questo tour fatto così! È bellissimo! Secondo me di quell'altro ne avevamo meno! No! Sì! 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 Ok! L'unica cosa veramente bella di questa stanza è che c'è questa colonna che poi ci giri dentro... Guarda, eh! Aspetta, eh! Sì! Va! È la doccia! Secondo me è molto bello! Molto bello! Entusiasmata dalle piccole cose, eh! Come giustamente più da tale fa un grande sesso! Il problema è che mai me la voglia mia prima! Non me ne parlate, per favore! Ti sembra il momento? Cioè, è sparare sulla traccia rossa! Sì! 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 Oddio! Quante mille mila ore sono che... Mi ciula il ba... Mi hai ciulato il bagno? Eh? Mi hai ciulato il bagno? Eh? Mi hai ciulato il bagno? Mi hai ciulato il bagno? Ti serve? Ti serve anche a me! Ma non ti serve! Vabbè, mi serve meno che a te, forse! Vieni a dire ciao però, scusa, non mi lasciare qua da sola! Ciao!